Ups a tutti, miei cari upsini e upsine. Come state? Fatemi sapere come state. Io spero veramente bene e spero che state passando dei giorni veramente tranquilli, senza stress. Oggi sono qui solo per voi, per fare un video dove vi porto ben 20 trigger. 20, quindi abbiamo un sacco di cose da fare. Mettetevi subito delle cuffie auricolari, quelli che preferite. E stendetevi, prendete un cuscino, una coperta, cercate di mettervi giù perché oggi non bisogna perdere tempo. Perciò, se tu sei pronto o pronta, io inizio. Ok, allora, iniziamo col primo trigger. Good. Good. Buongiorno al primo. ... 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